Paragrafo 16.5 La prima legge di Ohm. Che cosa accade se applichiamo tensioni di valore diverso allo stesso conduttore metallico? Sia che aumentando la differenza di potenziale, la corrente che circola aumenta a sua volta. Vediamo di verificare quanto affermato anche sotto l'aspetto quantitativo. Costruiamo un semplice circuito elettrico costituito da un filo metallico di Costantana, lega di rame e nickel, fili di collegamento e un generatore. Inseriamo quindi un amperometro disponendolo in serie per misurare l'intensità di corrente che circola nel conduttore e un volmetro in parallelo per rilevare la differenza di potenziale ai suoi capi. Modifichiamo per mezzo del generatore la tensione d'ingresso facendo attenzione che il filo non si riscaldi troppo. Leggiamo ogni volta i valori della DDP, delta V e dell'intensità di corrente I e riportiamo i dati in un'opportuna tabella. Allora questo è il nostro circuito, generatore, interruttore, amperometro, volmetro collegato in parallelo al filo di Costantana che è questo pezzo qui. Ok? Adesso proviamo a costruire questo stesso circuito utilizzando la nostra applicazione. Ok? Abbiamo praticamente costruito lo stesso circuito. Il filo di Costantana viene sostituito da questo elemento che viene chiamato il resistore, poi abbiamo il nostro amperometro che come vedete è collegato in serie, poi abbiamo il nostro volmetro, eccolo qua, che viene collegato in parallelo ai capi del nostro resistore che sostituisce il filo di Costantana, cavi di collegamento, ok? Cavi di collegamento, un generatore, una batteria come potete vedere. Ok? Questo è il nostro circuito. Vediamolo trasformato in simboli. Ecco che come si trasforma in simboli. Questo è il simbolo del generatore tensione continua, questo è il simbolo del nostro resistore e qui abbiamo sia l'amperometro che il volmetro. Torniamo nella nostra. Allora, cosa facciamo noi? Andiamo a modificare la tensione e vediamo di misurare la carrente che attraversa il nostro resistore, questo elemento circuitale che è collegato al generatore mediante i cavi di collegamento e l'amperometro in serie. Possiamo vedere già un valore, 0 volt, 0 ampere. Quindi proviamo a riportare questi dati su di una tabella. Ecco qui. Qui abbiamo una tabella in cui mettiamo la tensione e mettiamo e mettiamo la corrente. Quindi tensione 0, corrente 0. Ok? Adesso andiamo a misurare la tensione, riportiamo il valore qui e qui riportiamo il valore della corrispondente valore. Allora andiamo qui nel nostro circuito, andiamo a chiudere e vediamo abbiamo un voltaggio di 4,50 volt. Corrente 0,45. Riportiamo questi due dati nella nostra tabellina. Quindi abbiamo 4,5 e 0,45 ampere. Riportiamolo qui. Ok? Adesso andiamo a modificare la tensione. Per modificare la tensione praticamente andiamo a fare uso di questo potenziometro. Io adesso vado a spostare il cursore del potenziometro in modo da avere una variazione della tensione. Vedete? Adesso abbiamo 5 volt e la corrispondente corrente di 0,50. Quindi vedete come aumentando il voltaggio sta aumentando la corrente. Riportiamo nel nostro grafico, nel nostro tabella, 5 e virgola 5 volt. Ok? Andiamo a cambiare ancora, quindi con questo potenziometro. Vediamo un attimo. passiamo a 6 volt, 0,60 ampere. Quindi abbiamo 6,6 ampere. Andiamo a fare un'altra modifica. Vediamo qui, andiamo ancora a modificare il voltaggio. 7,50 volt e 0,75 ampere. 7,5 volt e 0,75 ampere. Ok? Facciamo un'ultima variazione. Andiamo a modificare. Ecco, lo portiamo a 9,9 volt e abbiamo 0,90 ampere. Riportiamo dato qui, abbiamo 9 volt e virgola 9 ampere. Ok? Allora vedete un attimo, cerchiamo di inquadrarla meglio questa tabella. Ok? Che cosa abbiamo qui? Abbiamo che a raddoppiare la tensione, guardate, 4,5 volt a 9 volt, quindi 9 è il doppio di 4,5, la corrente è passata da 0,45 a 0,9. Praticamente è raddoppiata. Quindi che questo che cosa vuol dire? Che raddoppiando la tensione raddoppia la corrente. Quindi la proporzionalità tra tensione e corrente è proporzionalità diretta. Infatti andiamo a vedere il rapporto, se noi andiamo a fare il rapporto tra il valore della tensione e il valore della corrente misurata, otteniamo un valore costante 10. Ok? Adesso bisogna capire questo valore che cos'è, che cos'è questo valore della costante pari a 10. Ecco, possiamo anche andare a vedere un grafico che abbiamo ottenuto. Ecco qui. Abbiamo questo grafico in cui sull'asse delle ascisse vengono riportati i valori di tensione, sull'asse delle ordinate i valori di corrente. Vedete? Questo grafico rappresenta una retta passante per l'origine, proprio ad indicare che vi è una proporzionalità diretta tra il valore della tensione applicata ai capi del nostro filo metallico conduttore e la corrente che in esso scorre. Ok? Adesso il problema è capire il valore di questa costante. Ok? Per capire il valore di questa costante possiamo fare una cosa di questo tipo. Andiamo ad aggiungere, chiudiamo un attimo l'interno, ad aggiungere un altro pezzo di filo metallico che è praticamente simile a questo. Ok? Andiamo a prendere una, quindi andiamo a fare qui un taglio e andiamo ad aggiungerne un altro. Ok. La tensione l'andremo a prendere ai capi di entrambi i due pezzi di filo che ho aggiunto in serie, come vedete li ho praticamente messi uno di seguito all'altro in serie. Chiaramente anche qui il primo valore è 0 voltaggio, circuito aperto, 0 amperaggio, quindi possiamo scrivere qui sotto questa colonna i due, ok? Quindi con due resistori, con due pezzi di filo metallico, possiamo andare a scriverlo della corrente. Ecco, cerchiamo di ripetere più o meno i stessi valori di tensione. Ok? Quindi abbiamo i due, quindi 0 tensione e 0 corrente. Andiamo a vedere di modificare adesso la tensione. Quindi chiudiamo qui, quindi qua abbiamo 9 volt, ok? 9 volt e abbiamo 0,45 ampere. Andiamo a trascriverlo qui, quindi 9 volt e qui mettiamo 0,45. Come vedete la corrente si è dimezzata. Vedete? Da 0,9 è passata a 0,45. Vediamo il rapporto, invece il rapporto è raddoppiato. Vedete? È raddoppiato. Proviamo a vedere se riusciamo a inserire qualche altro dato. Quindi andiamo qui con il nostro potenziometro a vedere se 7,50, proviamo a inserire, 7,50 è 0,37 volt. Quindi andiamola a mettere qui, quindi 7,50,37. Ok? Guardate, anche qui la corrente si è circa dimezzata, vedete? E il rapporto è intorno ai 20. Beh, qui è una questione di cifre decimali. Proviamo a vedere se riusciamo a fare un altro valore simile, quindi quali valori avevamo. a vedere, proviamo a vedere O6, O5. O6, O5, vediamo quale riusciamo a fare. Ecco, 6 volt, quindi andiamo a vedere 6 volt 0,30 ampere. Scriviamo qui, virgola 30, virgola 30. Vedete un attimo come si è ridotto ancora, la corrente si è dimezzata, quindi siamo passati. Vedete il rapporto è diventato nuovamente 20. Come vedete il rapporto è raddoppiato, quindi è la corrente si dimezza. Quindi che cosa succede qui? Che cosa è praticamente aumentato? È aumentata la difficoltà degli elettroni a muoversi. Quindi aver aggiunto un altro pezzo di filo metallico fa sì che la corrente, gli elettroni, hanno difficoltà a muoversi. Quindi il valore della corrente si abbassa. Quindi vuol dire che questi due pezzi di fili metallici hanno un'altitudine maggior, doppia, ad opporsi al passaggio della corrente. Bene, questa proprietà viene chiamata resistenza elettrica. Viene chiamata resistenza elettrica. Allora andiamo a vedere. La resistenza elettrica è data dal rapporto tra la differenza di potenziale applicata agli estremi del conduttore e l'intensità della corrente che vi circola. Resistenza uguale a differenza di potenziale fratto intensità di corrente. In simboli R uguale a ΔV fratto I. Per quanto riguarda l'unità di misura possiamo scrivere R ΔV fratto I. Implica che il differenza di potenziale si misura in Volt. L'intensità di corrente si misura in Ampere. Quindi abbiamo Volt fratto Ampere. Il rapporto Volt fratto Ampere viene chiamato Om. Simbolo Omega. Lettera greca che si legge Omega. Dal cognome del fisico tedesco insegnante di liceo Georg Simon Ohm 1787-1854. Quindi un Ohm è uguale a un Volt. Un conduttore ha una resistenza di un Ohm quando applicando ai suoi capi una differenza di potenziale di un Volt viene percorso da una corrente di intensità pari ad un Ampere. Quindi questa che abbiamo scritto è la formula che rappresenta la legge di Ohm. Chiaramente noi la possiamo leggere in diversi modi perché possiamo scrivere ΔV è uguale a R per I. Oppure, e questo lo possiamo vedere da qua, da questa formula, facciamo le formule inverse. ecco qua, ecco qua, ΔV è uguale a R per I. Prima legge di Ohm. In un conduttore l'intensità della corrente elettrica che lo attraversa è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale presente ai suoi capi. La costante di velocità è data dalla resistenza del conduttore. Questa viene chiamata la prima legge di Ohm. Chiaramente io qua posso fare un'altra formula inversa per ricavare I. I è uguale a ΔV fratto R.